Caravaggio, Roma, Campo Marzio. La Madonna dei pellegrini nella chiesa di Sant'Agostino. E' la Madonna con in braccio Gesù. Davanti a loro sono inginocchiati in preghiera due pellegrini. La Madonna è la madre di Gesù ma non ha niente di eratico. E' una Madonna donna che risponde ai canoni veristi propri dello stile del Caravaggio, che era solito prendere le sue modelle dalla strada. Maria, la mamma, sembra essere stata accolta di sorpresa dalla visita dei pellegrini che hanno bussato. La mamma Maria ha aperto la porta e si ferma sull'uscio. E' a piedi nudi e sembra non aver fatto in tempo a vestire il bambino Gesù che tiene in braccio appoggiato su un telo. Il bambino ricambia lo sguardo dei due pellegrini, un uomo e una donna inginocchiati con le mani giunte. Tra la coppia in preghiera un bastone che sembra averli sostenuti durante il viaggio. Un viaggio lungo, come lasciano intuire i piedi sporchi del pellegrino. Personaggi reali, non irrispettosi e irriverenti del sacro, ma icona del bisogno della gente del popolo che, tra le ombre della sua quotidianità, non smette di coltivare desiderio di riscatto, di luce. Forse la luce ricercata dallo stesso Caravaggio che aveva mani magiche nell'usare i pennelli, ma il cuore scuro che sfogava tra risse e aggressioni e soggiorni in carcere. Quando Caravaggio dipinse la Madonna dei pellegrini che vediamo nella chiesa Sant'Agostino di Roma, erano i primi anni del 1600. Pochi anni dopo, prima di morire a soli 38 anni, Michelangelo Merisi, detto Caravaggio per sfuggire alle conseguenze di un omicidio commesso, si sarebbe dato a fughe rocambolesche fuori da Roma per far perdere le sue tracce. La vita del Caravaggio tra luci ed ombre, come le sue tele, non sempre ritenute idonee al nuovo corso della Chiesa Cattolica che affrontava la riforma. Questo ieri, non oggi. La vita del Caravaggio La vita del Caravaggio La vita del Caravaggio